I lavori su via Pisacane che da qualche settimana si stanno eseguendo sulla sede stradale hanno causato in orari di punta code di diverse decine di metri ed una circolazione alternata ed un periodo di percorrenza del tratto stradale che ha scoraggiato molte persone a prendere questa direzione, compresi i clienti e le persone che frequentano gli esercizi commerciali della zona. I lavori di posa delle tubazioni sono per il supermercato Cobb che presto verrà realizzato nell'area Lato Mare in scomputo delle opere compensative ma andrà a vantaggio di tutta la comunità di residenti della zona uscenti che da questo punto di vista erano fortemente penalizzati. Ma come sempre la medaglia ha due facce e per alcuni lo slittamento di qualche settimana del cantiere ha causato un calo di clientela e naturalmente anche di incassi. Sì, la clientela comunque sia si lamenta, trova molta fila quindi deve aspettare prima di entrare e insomma questi lavori stanno creando parecchio disagio. Loro sono i primi a lamentarsi, di conseguenza anche noi perché comunque sia magari evitano di venire e tutto, soprattutto in alcuni orari della giornata proprio quando escono a fare la spesa in questi periodi che si va tutti di corsa. Quindi scontrino alla mano, un calo del fatturato l'avete constatato? Sì, sì, in questi ultimi giorni sicuramente. Quando vi hanno detto che dovrebbero terminare questi giorni? Ma sinceramente una data precisa non l'ha andata, avevano detto che duravano poco in un paio di settimane ma sono passate le due settimane quindi stiamo a vedere. Noi speriamo che facciano in fretta, la promessa non l'hanno mantenuta però speriamo che accelerino i lavori. Anche per voi con la vostra clientela un po' di problemi? Un po' sì perché essendo parecchio traffico la gente cerca di evitare strada passando ad altre parti. Avete visto insomma un calo dei clienteli? Sì, sì, quasi la metà. Quindi siete un po' preoccupati? Un pochino, speriamo che finiscono presto. Va detto ad onor di cronache che anche altri esercizi commerciali della zona pur lamentando disagi e meno clienti del solito, certamente quelli di passaggio se li sono giocati, quelli dell'acquisto all'ultimo minuto prima di rientrare a casa, che sapendo del tappo hanno fatto altri percorsi, scrollano il capo accettando però il disagio momentaneo Ubi Major Minor Cessat in funzione del bene comune. Anche perché, e questa è un'altra buona notizia, il cantiere dovrebbe essere agli sgoccile ormai ancora qualche giorno per terminare i lavori che porteranno sempre a vantaggio dei residenti anche le nuove tubature dell'acquedotto.